Dopo il Tempio Maggiore Ebraico, anche la Moschea di Roma attende Papa Francesco. Niente di ufficiale, ma la voce è ormai certa per la soddisfazione delle sigle che raggruppano l'ormai cospicua comunità musulmana d'Italia. È un'artizia molto positiva, molto interessante. Demostra in questi giorni così, purtroppo duri per tutti quanti noi, che i musulmani, i cristiani, gli uomini, le donne di tutti e due le fede dialogano ma con questo gesto della visita del Bava che ha annunciato credo si dà un'impronte del dialogo interligioso più forte di quello che c'era prima. In queste ore c'è delegazione della Moschea, dell'amministrazione della Moschea con diversi ambasciatori anche dei paesi arabi, islamici, al Vaticano per mettere gli ultimi ritocchi a questa visita. Solo un'ipotesi per adesso deve considerarsi la data del 27 gennaio preannunciata dallo stesso presidente, Ucoi. Si parla già comunque di evento eccezionale, pur avendo già altri papi, eppure Francesco varcato la soglia di una moschea. Mai però a Roma, dove quando la moschea fu inaugurata, 21 anni or sono, ci fu anche chi organizzò addirittura rosari di riparazioni all'offesa arrecata, si disse, al cuore geografico della cristianità. La prima visita ad un tempio islamico e opera, manco a dirlo, di Karol Wojtyla, 6 maggio 2001, visita alla moschea degli Omayadi a Damasco in Siria, poi vennero di lì a poco dopo l'11 settembre, tempi assai meno propizia al dialogo islamo-cristiano, che divenne perciò sì più spigoloso, ma proprio per questo ancor più necessario. A novembre 2006 ecco Benedetto XVI assorto in preghiera dentro la moschea blu di Istanbul, durante un viaggio in Turchia dalla genesi travagliata a dir poco, dopo le aspre reazioni al tanto celebre quanto travisato discorso di Ratisbona. Poi nel 2009, con ancora Papa Ratzinger, vengono a Mann e Gerusalemme, la famosa moschea della cupola della roccia. Qui è entrato anche Francesco a maggio 2014, come pure ad Istanbul nella moschea blu già citata a novembre 2014. Infine Bangui a novembre scorso, con non poco coraggio da parte del Papa, in un paese come il Centrafrica, dilaniato da lotte che han contrapposto per motivi in realtà assai poco religiosi, cristiani e musulmani.